GF VIP, Tavassi spara a zero su mi sotterrerei e i fan chiedono provvedimenti. Edoardo Tavassi spara a zero su Antonella Fiordelisi all'interno della casa del grande fratello VIP7 e scoppia il caos sui social. In queste ore, infatti, il fratello di Gwendalina Tavassi si è lasciato andare a delle considerazioni poco carine nei confronti di Antonella e lo ha fatto in presenza del suo fidanzato Edoardo Donna Maria. Immediata la reazione dei fan e spettatori social delle reality show, molti dei quali hanno chiesto alla produzione di intervenire e prendere provvedimenti contro Tavassi. Nel dettaglio, il rapporto tra Antonella e Tavassi si è incrinato nuovamente nel corso degli ultimi giorni, i due si sono ritrovati ai ferri corti in casa e sono volate anche parole grosse che li hanno messi l'uno contro l'altro. Come se non bastasse, Tavassi in queste ore ci è divertito a sparlare di Antonella anche con il suo fidanzato Edoardo Donna Maria. Chiedendogli cosa avesse trovato in lei, al punto da decidere di intraprendere una relazione d'amore all'interno della casa di Cinecittà. Cosa hai visto in lei? Cosa vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo, ha sbottato Edoardo Tavassi sparando a zero contro Antonella. Mi immagino io in giro con lei, io mi sotterrerei davvero, ti giuro, ha proseguito ancora Tavassi che non si è fatto problemi a infierire contro la concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. A spiazzare, poi, è stata anche la risposta di Donna Maria che questa volta non ha difeso la sua fidanzata. Bensì ha messo in discussione il loro rapporto. Non lo so, forse ho sbagliato, ha esclamato Edoardo Donna Maria ammettendo di avere dei dubbi su questa storia d'amore nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Sta di fatto che, a scatenare la reazione contrariata dei fan social, sono state le parole di Tavassi nei confronti di Antonella. Gli spettatori e fan social delle reality show non hanno gradito minimamente il modo in cui Edoardo Tavassi ha parlato della giovane Fiordelisi. Che schifo, speriamo che prendano dei provvedimenti, hanno sentenziato i fan di Antonella sui social. Taggando anche il padrone di casa delle reality show, per metterlo al corrente del duro attacco rivolto da Tavassi nei confronti della loro beniamina. Cosa succederà a questo punto? Signorini interverrà per davvero oppure ci penserà la stessa Antonella a difendersi? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GFVP in onda il 2 gennaio. No, no, no mai am nimic de ascuns, pot să mă sus tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai sus. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă brac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Nu știi, nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever, s-a lovit până acum de fel de...